Per colpa di un cavillo burocratico, dopo ben 40 anni di attesa, il piano regolatore generale di Gela rischia di naufragare. A causa di un vizio di forma riscontrato nella documentazione, qualche giorno addietro la Regione ha chiesto la ripubblicazione. Ad essere messa in discussione, in questo caso, è stata la mancata pubblicazione del PRG su un quotidiano regionale. Abbiamo intenzione di affrontare immediatamente, in maniera drastica, l'emergenza del momento di qualche giorno fa con questa nota. Credo che ci sia stata da parte degli uffici regionali un quanto meno grande distrazione, sicuramente la causa di un grande ritardo. Sono molto preoccupato per alcuni passaggi a vuoto e soprattutto per la mancanza di riscontro alle note. Sostanzialmente hanno detto per anni che la procedura andava regolarmente avanti, salvo poi quando siamo arrivati al momento definitivo dell'approvazione, così come era stato detto anche dal dirigente e da tutti i funzionari, scoprire che c'era una cosa che andava fatta 5 anni fa e che loro stessi avevano, quindi l'assessorato stesso aveva superato in 5 anni. Credo che per dirla in maniera chiara, queste sono delle scuse che non possiamo accettare, quindi abbiamo immediatamente chiesto di affrontare anche con l'assessore e col dirigente quello che è successo, perché è noto agli uffici da tempo e abbiamo l'obbligo in ogni caso di informare sempre la città e di raggiungere l'obiettivo nel più breve tempo possibile. Inaccettabile per l'assessore comunale all'urbanistica della città del Golfo il fatto che il piano regolatore generale venga contestato a distanza di 4 anni dalla sua presentazione. Abbiamo portato anche sendenze del CGA, del Consiglio di Stato, che confermano la correttezza di tutta la procedura, che nonostante quell'errore la procedura è assolutamente valida, tant'è vero che sono state presentate circa 630 opposizioni al piano regolatore generale, che sono state tutte vagliate, anche quelle presentate fuori termine. Ciò significa che la gente ha ricevuto le diffuse informazioni e chi ha dovuto fare opposizione l'ha fatto. Nessuno ha rilevato la mancata pubblicazione al quotidiano regionale, che è stato poi l'inghippo voluto dalla regione. Da qui a giugno riusciamo ugualmente ad approvare il piano regolatore generale e va bene, se no credo che il Comune si debba tutelare.